e rapporto a chi non ha contestato la preoccupazione del pueblo per lo quale ha vinto passando nel SIAAT. E noi mi servizia a facilitar il pueblo per accorre al pueblo che è stato vinto passando, ma decidere di prendere un rei e parte della persecuzione politica che sta tomando il luogo nel SIAAT. Ma chi è stato fatto in mira che è finita con un fastball con il gabinete in mano a PASA, il Parlamento di Aruba, il 30 di Dezember 2009. In modo che non si senti a ribestullo, il gabinete in mano a PASA per un passaggio unanime del Parlamento di Aruba per accorre a chi non ha fatto un quick scan nel SIAAT. Ante il pretexto del tempo che non è stato fatto che il pueblo non ha finito la restituzione, perché la placa del pueblo si è stato vinto passando nel SIAAT e perché ora non ha fatto un quick scan per mirare che il tour non è buono e con il pueblo qui per l'Aiwardo cobrano un belastro più umano. Il tempo è che il 20 di Aniwari 2010, il ministro di Mesa, la quita e la autorità del direttore di SIAAT per accorre a chi non ha fatto una medida di, tra l'altro, l'autorità di SIAAT. Es decir, una medida disciplinario e una medida che la quita per una carta e la carta che non ha fatto il 20 di Aniwari e la quita e la quita e l'autorità del direttore di SIAAT e la quita per l'Aiwardo a chi non ha fatto una medida disciplinario. Giai botta mira qu'una april, nangalaga, se a dei, haci un investigacione e tambe KPMG haci un quick scan den e departamento a chi. Giai non sta haia na mei di ania e na 2010 e riunione per il Settlement Agreement di Valero e, despes di parte, a chi non ha messo un lunedì mei e promè l'acmento di informasione ta sale a fo di un gende prominente, un commerciante prominente di nos comunità. Però, na juni di e meso un ania, botta mira, ora non è un minister haciendo uso di è derecho quella quita e autorità quella quita di è direttore di Belastin e ora non è un uso di è derecho e pa pone e su un, qu'una haia culpabile di alle informazioni pa pone back necci necci in nostro lugar na juni 2010. Però, e non botta mira qu'un eccoz non sta siggi, non sta siggi bai, e botta mira ora non qu'una novembre 2010 ma nesta demesa ta logra por fin, pa haia saca, pa haia bulla cabeza di direttore e tambe ha un vanger di Belastin pa haia qui ta'y dos ficha nang importante aki for di caminda e ora non è haia pone su jene nang di confianza qu'alta e management team qu'u tambe ta drenta e ora non nasiat na e november e nanang di 2010.